Il futuro della memoria ha il volto di Liliana Segre, così Sillaco di Pesaro Matteo Ricci che ieri davanti all'Ipsia Benelli ha intitolato il murale alla senatrice a vita presente per l'occasione nel giorno del 76esimo anniversario della liberazione della città. L'opera realizzata da David Vecchiato raffigura la testimone della showada bambina tenuta in braccio dal padre Alberto negli anni 30. Il murale è rivolto al futuro senza dimenticare il passato, con un tricolore acido sullo sfondo, spiega il primo cittadino, perché le leggi razziali purtroppo sono state anche responsabilità del nostro paese. Un senso di colpa, prosegue Ricci, che non possiamo rimuovere, ma possiamo contrastare portando avanti i valori della libertà e della giustizia, così come ha sempre fatto Liliana con i nostri ragazzi. Siamo molto contenti perché questo è il nostro regalo a Liliana Segre. Liliana festeggerà proprio il 10 di settembre a 90 anni e siamo i primi a regalarle qualche cosa e questo è davvero un dono particolare, perché è un grande segno in una scuola, in una delle principali scuole della nostra provincia, il campus scolastico. Che è un grande anche viatico per il futuro, perché è la dimostrazione che questa città continuerà a lavorare per la memoria, contro il razzismo, contro l'intolleranza e contro l'odio. Quindi davvero una giornata particolare. Noi siamo onorati di avere Liliana Segre nella nostra città, a Pesaro la sua seconda città dopo Milano. Abbiamo già dimostrato che i sindaci saranno la sua scorta per sempre, ma i sindaci e tutte le istituzioni porteranno avanti le sue battaglie per sempre, a iniziare dalle scuole. Quindi questo simbolo ha davvero un'importanza straordinaria. Emozionata Liliana Segre è stata accolta al sorrivo dagli applausi dei presenti. Appena ho visto il murale uscendo dall'auto, ha rivelato la senatrice sopravvissuta alla Shoah, ho pensato al ponte di Genova. Renzo Piano mi aveva invitato all'inaugurazione ma non me la sono sentita di andare, grazie all'opera che la mia carissima Pesaro mi ha dedicato. Chi passerà qui dovrà spiritualmente pensare al ponte che ho lasciato nella mia vita. È un ponte tra il bene e il male, ha precisato la Segre. Un male che si attraversa con il fine di essere diversi da chi l'ha provocato, senza essere simili a loro in niente, né nell'odio, né nella vendetta, né nell'orrore, scegliendo invece sempre la vita. Quelli che sanno fare la differenza, quelli che sanno fare la scelta, sceglieranno sempre un ponte. Un ponte che unisca gli uni agli altri ma che non assomigli mai a quelli che si lasciano dall'altra parte, a quelli che fanno muri e non ponti. Allora questo è un murale che è sopra un muro ma che diventi sempre nel futuro un ponte. Grazie.